Per le letture della terza domenica di Avento iniziamo con il profeta Isaia il quale ci racconta la salvezza dell'uomo. La mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza e mi ha avvolto con il mantello della giustizia. Questo capitolo appartiene già al terzo Isaia cioè il periodo dopo l'editto di Ciro 538 avanti Cristo il ritorno a Gerusalemme dall'esilio in Babilonia. Di chi parla il terzo Isaia? Probabilmente dicono gli esegiti di un sommo sacerdote tornato dall'esilio che ora indossa la veste sacerdotale e prova tantissima gioia e ingratitudine. Perché cosa? Perché è stato salvato. Il profeta Isaia dice qualcosa di essenziale per noi cristiani che questo sommo sacerdote ha fatto l'esperienza di essere stato salvato, tirato fuori dalla morte, dal nulla, dalle tenebre. Cioè è tornato sano e salvo dall'esilio, perciò gioisce e rende grazie. Il cristianesimo si fonda sull'esperienza di redenzione perché proprio l'evento di salvezza ci introduce a un vero cammino spirituale. Un sacerdote salvato indossa anche il mantello della giustizia e pratica la giustizia nell'ottica della misericordia di Dio. Adamo e Eva davanti all'albero della conoscenza del bene e del male, cioè davanti alla conoscenza che ci salva e vuole salvarci da una vita autosufficiente, non hanno ancora potuto sperimentare cosa significa essere tirati fuori dalle tenebre e ricevere la veste della salvezza e il mantello della giustizia. I padri siriaci dicevano che Adamo ed Eva erano vestiti di gloria, cioè di luce. Cosa significa? Che ogni cosa nel giardino ricordava Dio, ogni cosa poteva mettere in relazione con Dio. La scelta che loro due hanno fatto in piena libertà, perdendo la veste di luce, fu quella di intraprendere uno stile di vita in cui l'uomo si salva da sé, sostituendosi a Dio. Ma chi si sostituisce a Dio, come dice Papa Francesco nell'ultima esortazione apostolica, laudate Deum, diventa il peggior pericolo anche per sé stesso, non soltanto per gli altri. Nella lettera ai Tessalonicesi Paolo continua questo discorso della salvezza come esperienza fondamentale e ci invita a pregare incessantemente e in ogni cosa rendere grazie a Dio. Ma come si può pregare ininterrottamente? Chi può farlo? Si tratta di un atteggiamento di un uomo ecclesiale, eucaristico, che vive in Cristo. Egli rende grazie per ogni cosa, perché le persone e le cose li ricordano Dio padre. Perciò Paolo ci esorta a non spegnere lo spirito, il quale ci ricorda sempre che siamo stati salvati, tirati fuori dalle tenebre. Romani 5,8. Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quando si spegne lo spirito, si perde la veste della salvezza, cioè il ricordo della salvezza, e si cade nella tentazione di giudicare prima del tempo. Prima Corinzi 4,5. La fede relazionale inizia a vacillare quando le persone e il creato non mi ricordano più Dio. Adamo e Eva hanno perso il ricordo di Dio e di conseguenza anche il creato si è quasi ritirato dall'eterna memoria, rimanendo così solo una semplice terra sulla quale l'uomo non si toglie più i sandali. E venne un uomo mandato da Dio, dice il Vangelo, il nome è Giovanni, che significa essere misericordioso. Cioè Giovanni ha fatto l'esperienza della misericordia di Dio, di essere stato salvato. La presentazione di Giovanni il Battista è perciò speciale, viene presentato come un uomo che non è la luce ma dà testimonianza alla luce. Il Battista riprende quell'identità e missione della luce che Adamo e Eva hanno perso. La sua identità e anche la sua missione consistono nel testimoniare la luce. Matteo 5,14. Voi siete la luce del mondo. Giovanni vive e vivendo ci dice che la vera luce c'è. Uno che è testimone della luce significa che ha fatto esperienza della vita sia delle tenebre che della luce vera e ha scelto la vera luce. Qualcuno ha aperto gli occhi a Giovanni. È come se fosse stato sul monte Tabor, ha visto la trasfigurazione. Cosa ha visto Giovanni? Ha visto lo spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Su chi? Sull'agnello che toglie il peccato del mondo. Giovanni il Battista fissa lo sguardo su colui che porta anche il peso del peccato del Battista. Giovanni 1,29. La luce che Giovanni testimonia però dà fastidio alle tenebre che non l'hanno accolta, non l'hanno vinta. Giovanni 1,5. Perciò i giudei li inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. I giudei praticamente mandarono i poliziotti della legge per verificare la dottrina di Giovanni e la stessa identità. Questi sacerdoti e leviti non hanno fatto l'esperienza della salvezza come l'ha fatta il sacerdote nel libro di Isaia, perciò non conoscono la vera luce. E questa vera luce dà sempre fastidio alle tenebre. Per ben quattro volte li chiedono chi sei, identificati, sei Cristo, Elia o il profeta? Dietro queste domande sull'identità si nasconde la grande tentazione del serpente. Diventerete come Dio, Genesi 3,5. Diventare qualcuno a tutti i costi per essere notato. Interessante che l'uomo nell'epoca moderna voleva a tutti i costi diventare qualcuno, ma la società liquida non gli ha concesso questo onore, come dice Sigmund Bauman. Giovanni Battista invece dice che la sua identità e missione è dare testimonianza alla luce, quello che Adamo ed Eva non hanno saputo fare. Come definire uno che dà testimonianza alla luce? È praticamente indefinibile, a meno che non ci si chiede chi è questa luce di cui Giovanni il Battista dà testimonianza. Per capire Giovanni il Battista e quale è il suo modo di vivere, si tratta di comprendere cos'è questa luce. Giovanni non si definisce da sé, ma in relazione ad un altro che è più grande di lui. Sono anni e anni che noi cristiani discutiamo sulle nostre identità e i nostri carismi e stranamente la testimonianza del Battista non ci apre gli occhi. Quanto è difficile capire e accogliere che la nostra identità è missione, è la luce, la veste di salvezza, il mantello di giustizia. La figura di questo grande precursore illumina il nostro futuro. Voi siete sale della terra e luce del mondo. Grazie. 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 Grazie.